Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei parlarvi di un tema molto delicato e spinoso che logicamente toccheremo soltanto in superficie, perché è molto complesso anche sulla base di quelle che sono le nostre esperienze personali che è il discorso del accettarsi. È una delle cose più difficili che possono essere fatte nella società attuale. Noi siamo bombardati di modelli, questa è la caratteristica principale della nostra società, della nostra generazione, delle generazioni tendenzialmente successive alla mia è che siamo bombardati di modelli, di messaggi in cui viene dato un giusto o sbagliato per tutto, ok? C'è sempre un giudizio di sottofondo che viene fatto in maniera diretta o indiretta attraverso quelli che sono principalmente i social, le pubblicità, qualsiasi cosa, i film. C'è sempre un giudizio, meno male che viene dato. Quindi noi cerchiamo sempre di capire, identificare qualsiasi nostra caratteristica, atteggiamento, scelta, decisione come giusto o sbagliato. E questo ci impedisce totalmente di accettarci. Ora, logicamente ci sono delle regole giusto o sbagliato che vivono, che sono imprescindibili, ma anche là è molto difficile andarle a delimitare. Sicuramente giusto o sbagliato possiamo basarci su quelle che sono delle regole di legislazione, nel senso che sicuramente compiere reato è tendenzialmente un qualcosa di sbagliato che dovremmo evitare di fare. Però se andiamo a vedere tante culture differenti, arrivando pure alle culture indigene che vivono attualmente, vediamo come quello che può essere un codice morale, oltre che un codice prettamente legislativo e penale, varia tantissimo, in base a tantissimi aspetti. Quindi non c'è una morale veramente comune. Sono poche le regole morali comuni a tutto il genere umano, a tutta la specie umana. Pensiamo alla monogamia. La monogamia non è un qualcosa di accettato in tutte le culture, anzi, tendenzialmente è un qualcosa di antifisiologico, e lo dice una persona sposata e felicemente sposata, però è un qualcosa di antifisiologico per l'homo sapiens in generale. E' un'imposizione più che altro culturale che deriva soprattutto da interessi economici, se vogliamo, perché il matrimonio in fin dei conti nasce per questo. Poi è stato tutto creato, la corrente romantica, i romanzi sui cavalieri e via discorrendo, però tendenzialmente c'erano interessi economici di base. Ora, perché è importante capire questo? Perché da quando noi nasciamo realmente, inevitabilmente abbiamo dei giudizi di giusto o sbagliato, nel senso che ci viene detto che un certo atteggiamento può essere giusto o sbagliato. E secondo me questo è un errore molto importante che viene fatto, viene fatto dai genitori, viene fatto dalle insegnanti in generale, che su certi individui può essere molto molto penetrante. Vi faccio il mio esempio personale. Io ho avuto i miei genitori che mi hanno sempre incentivato a fare qualsiasi cosa mi passasse per la testa. Qualsiasi. Quindi io appena avevo un'idea, un qualcosa che volevo fare, che era il nuoto, che era suonare la chitarra, che era fare musica in generale, quindi andare a fare concerti in giro e tutto il resto, che era fare tiro con l'arco, qualsiasi attività, qualsiasi cosa mi passasse realmente per la testa, i miei erano primi a muovere i passi per incentivarmi. Però, però, per come sono fatto io, una delle mie caratteristiche è che, può essere che l'abbiate notato, però quando faccio un qualcosa, per come sono fatto io, devo farlo in maniera molto molto penetrante, devo buttarmici a fondo, perché è il mio modo di dare un senso a quel che faccio. Quindi io non riesco ad avere un hobby, una passione fatta tanto per fare. Ma non è che sia una cosa giusta o sbagliata, è che io semplicemente non riesco a concretizzare un qualcosa se non gli do un senso, che non deve essere logicamente un senso economico, ma deve essere un senso proprio a livello di progettualità. Quindi dare un progetto che può essere aprire un canale YouTube in cui faccio... Ecco, se io mi metterò in futuro, cosa che spero di fare, a dedicarmi al videomaking, alla fotografia, sicuramente aprirò una pagina Instagram per la fotografia, un canale YouTube per fare B-roll videomaking, magari in viaggio e cose del genere, in cui non cerco un ritorno economico, ma devo dare un senso, non faccio cose per tenermi nel mio computer e fine. Lo faccio perché voglio creare un progetto. E questa è una cosa che mi è stato insegnato a essere sbagliata quando esageravo, nel senso che, ok, quando mi vedevano che ero chiuso magari tutto il giorno a comporre, o stavo in studio tutto il giorno, era, ok, stai esagerando, non va bene questa cosa. Quindi questo mi faceva maturare un senso del sentirmi in colpa quando esageravo, mi buttavo troppo a capofitto nelle cose. E realmente non è così, perché io sono fatto così. Non è un qualcosa di giusto o sbagliato, è un qualcosa che semplicemente va assecondato. E quindi col tempo non ho avuto realmente difficoltà in questo, perché sono sempre stato abbastanza ostinato e capuccione sulle mie, però è semplicemente un qualcosa che ho accettato. Io sono così, non devo sentirmi a disagio, perché sono fatto in questo modo. Qualcun tempo, quante volte capita che viene dato un giudizio a noi stessi, e noi a quel punto ci sentiamo vincolati a questa aspettativa. Nel senso viene detto, no, ma lui è bravissimo a scuola, studia tantissimo, è bravissimo in questa materia. Io avevo un compagno di classe che era veramente molto molto bravo a scuola, sapete, tipico secchione, però era un sacco alla mano, c'ho stato un sacco amicizia. E mi ricordo, accadde che era veramente una spada, cioè aveva, sapete, quelle persone in cui vanno benissimo in tutto quanto, eccetera, e i genitori lo esaltavano tanto per questa cosa. E capitò, mi ricordo ancora, una volta in cui avevano già fatto gli scrutini, sapete alle medie come funziona, che fanno gli scrutini un po' prima della fine dell'anno scolastico, quindi tutto quello che succede dopo, ormai hanno fatto gli scrutini, hanno dato i voti, e fine. E mi ricordo che assegnarono un compito, così all'ultimo, e per qualche ragione lui non lo fece. E capitò che l'insegnante interrogò lui, proprio perché dice, vabbè, nessuno l'ha fatto, è chiaro che nessuno l'ha fatto, chiedo ad Andrea, perché Andrea sicuramente l'ha fatto, e lui non l'aveva fatto. E entrò totalmente in crisi, totalmente in crisi, perché era una cosa così stupida, ma così stupida, ma non aveva raggiunto le aspettative. E mi ricordo che tornai a casa con lui, perché avevamo veramente tanti amici, e quindi stavo là quando lo disse alla madre, e lui lo disse alla madre come se gli avesse detto mamma, ho ucciso una persona oggi. E la madre dice, Andrea, tranquillo, face, nel senso, a parte che hanno già fatto gli scrutini, però, amen, cioè, non è successo niente, stelle, medie, c'è una media altissima, sei bravissima, gli insegnanti vengono qua che mi stendono i tappeti rossi quando arrivo a parlare con te, con loro, e, amen, cioè, è una cosa veramente stupida. E lui è entrato totalmente in crisi, e molto spesso le persone fanno questo, cioè, i genitori, o gli insegnanti, o gli amici, creano delle aspettative per la persona, e questa persona si sente totalmente in palla se non è all'altezza di queste aspettative. Ed è spinosa come cosa, è molto spinosa perché non abbiamo a quel punto più la libertà di fallire, di sbagliare, di tirare, di fare un passetto indietro, in qualche modo. O, allo stesso tempo, se ci viene detto che siamo dei falliti, è un qualcosa che tendenzialmente ci scorra, ma già del tutto perché? Perché siamo dei falliti, perché magari semplicemente o non andiamo bene a scuola, ma potremmo essere dei campioni in qualcosa, oppure non abbiamo fatto l'università, abbiamo fatto qualsiasi scelta, allora, è un fallito, magari ce l'ha detto, di no, l'insegnante, gli amici, la ragazza, la madre, eccetera, e noi a quel punto mogliamo tutto perché ci sentiamo dannatamente sbagliati. Non è così, non c'è veramente un giusto sbagliato, e uno degli esempi più belli, dal mio punto di vista, è guardare quella che è la letteratura, la letteratura di qualsiasi paese che c'è stato nella storia, la letteratura, passando da Shakespeare, andando ad Oscar Wilde, passiamo a Manzoni, a Leopardi, Ungaretti, Foscolo, tanta letteratura, e ciascuno di questi poeti, scrittori, era completamente differente, faceva cose completamente differenti, parlava di cose completamente differenti, e faceva emergere un lato di sé completamente differente, cioè pensate alla differenza che c'è tra Shakespeare, ok, che è miele puro, amore puro, romanticismo estremo, e Oscar Wilde, e Manzoni dall'altra parte, e Leopardi depressivo, cioè, ci sono tante, tante differenze, eppure, ciascuno di questi poeti è stato preso in qualche modo come uno status symbol, in qualche modo, ci è stato insegnato che sono delle persone cui ispirarsi, delle persone giuste, ok, quindi se io, se a me viene detto, ma mia Ludovico, sei troppo romantico, cioè, troppo ossessionato con questa cosa dell'amore, della cosa, oddio, sono sbagliato, oddio, non va bene, devo tranquillizzarmi, e non mi accetto, ma se mi viene detto, ma mia sei romantico, sei come Shakespeare, veramente, mi auto esalto, mi sento giusto, perché ho un paragone, un qualcosa, a cui riesco ad avvicinarmi, e, questa diversità, ci fa capire, che non ci sono, degli, degli atteggiamenti, ma soprattutto, non ci sono, ci sono delle regole, di buona condotta, ci sono sicuramente, tante sfaccettature, però realmente, non ci sono delle personalità, che sono giuste o sbagliate, voi avete la vostra, io la mia, probabilmente, io e te, che stai guardando questo video, siamo completamente differenti, probabilmente, se parlassimo, se stessimo un po' insieme, ci staremo anche un po' sul cazzo, parliamoci, chiaramente, ok, io sono una persona difficile, tu probabilmente, sono una persona difficile, a modo tuo, potremmo starci molto sul cazzo, però, non c'è un giusto sbagliato, è per questo che abbiamo una cerchia, di amici, tendenzialmente più ristretta, persone con cui, non andiamo d'accordo, però, se noi iniziamo a ragionare tutto sul sentirci sbagliati, per delle caratteristiche che abbiamo noi personali, abbiamo completamente fallito, abbiamo fallito perché non riusciremo mai ad accettarci, ricordate che la cosa più preziosa che voi avete, è la vostra interindividualità, perché nessuno è come voi, avete delle caratteristiche che avete voi soltanto, e avete il dovere di mantenerle, il dovere di esaltarle, il dovere di portarle avanti, perché è quello che crea così tanta diversità nel mondo, è quello che sta facendo andare avanti il genere umano, che ci sono elementi completamente differenti, che portano idee differenti, e c'è un confronto, una connessione continua, perché se fossimo tutti dei robot, finiremmo come la Corea del Nord, finiremmo con l'arte, con la religione, con quella che è l'anima e l'essenza del genere umano, completamente annientata, perché c'è l'idea di giusto, c'è l'idea che noi dobbiamo essere così, e dobbiamo assolutamente seguire questo, quindi quando vi sentite giudicati, quando vi sentite buttati giù, quando vi sentite messi da parte, per dei comportamenti che avete, che sono vostri, ragionate innanzitutto su, logicamente mettetevi in discussione, cercate di capire quanto è vostro questo atteggiamento, ma se è una caratteristica vostra, preservatela, tenetela, coltivatela, portatela avanti, non buttatevi giù, non cercate di cambiarvi, perché la società vi impone, perché se voi avete un determinato comportamento, e adesso è considerato sbagliato, roba che tra 50 anni è considerata la cosa più giusta del mondo, e non è giusto allora distruggervi, non è giusto soffocarvi in questo senso, dovete cercare di portarvi avanti, e di preservarvi il più possibile, dovete conoscervi, dovete conoscervi, imparare a farlo, imparare ad accettarvi, imparare ad amare ogni parte di voi, e questa è una cosa veramente difficile da fare, difficile perché tante cose ci spingono a essere diversi, tante cose ci spingono a fare diversamente, tante cose ci forzano a cambiare, ad amalgamarci, alla massa, e questo confronto continuo che abbiamo, fittizio, un confronto fittizio, perché le persone giudicano, le persone insultano, le persone sono frustrate tendenzialmente, e questo confronto continuo che abbiamo, ci spinge a volerci chiudere, volerci chiudere, volerci nascondere, creare una maschera e non accettare realmente noi, gli stessi social sono creati e funzionano, perché ci permettono di mettere questa maschera, di essere come la società, come la cultura, come gli amici, come la cerchia in cui stiamo, ci accetta, e questo ci porta a non accettarci noi stessi, non amarci, smettere di amarci, quando smettete di amarvi è finita, è totalmente finita, avete perso, totalmente nella vita, non è una situazione che vi permette di essere felici, o essere sereni, non vi amate, vi continuerete a fare del male, vi farete del male in tantissime azioni che fate, in tantissime scelte, e ogni scelta che vi allontana dal vostro essere voi stessi, che sia anche mettere semplicemente un filtro su Instagram, o che sia dire una buffonata, o modificare una foto, cose stupide del genere, ogni scelta del genere vi distrugge, vi distrugge, vi logora dall'interno, si cronicizza e vi logora dall'interno, e non è facile ragazzi, non è facile, perché soprattutto in Italia abbiamo un paese in cui c'è tanto body shaming, c'è tanto insultarsi, ci sono tanti haters, e questa è una differenza che noi qua in Inghilterra vediamo, ma questo è soltanto riguardo all'aspetto fisico, ci sono poi tante sfaccettature diverse su qualsiasi aspetto, quello che potete fare realmente è mettervi al primo posto, scegliere voi, perché vi assicuro che nel momento in cui voi scegliete voi stessi, tutte le altre persone inizieranno a fare lo stesso, sceglieranno voi, sceglieranno voi perché sarete autentici, perché vi amate, quindi spero di avervi dato degli spunti interessanti, come al solito, fatemi delle domande qua sotto, delle riflessioni, fatemi sapere la vostra in merito, e noi ci vediamo al prossimo video.